ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial oggi realizzeremo una blusa top down dallo sprone rettangolare come vedete il punto molto semplice e questo è lo stesso punto del runner moderno che ho fatto solo che questa volta l'ho lavorato in tondo per quanto riguarda i materiali che sto usando è il canna da zucchero lux della mistrico filati e sto usando questi due colori il blu e il celeste per quanto riguarda la lavorazione molto semplice il punto è un multiplo di 10 una volta che avete stabilito la vostra circonferenza e avviate le vostre catenelle dobbiamo chiudere in cerchio la prima catenella con l'ultima con una maglia bassissima nel mio caso con questo filato e questo uncinetto ho avviato 100 catenelle che corrispondono a 54 55 57 centimetri per quanto riguarda la suddivisione è molto semplice ogni lato deve essere divisibile per 10 perché abbiamo un motivo multiplo di 10 quindi io ho fatto 30 catenelle sul davanti e dietro e 20 sulle spalle sommando 30 20 30 e 20 o 100 catenelle se voi avete messo più catenelle delle mie l'importante che ogni lato è divisibile per 10 per sapere adesso quanti motivi devo mettere sul dietro davanti e sulle spalle basta fare nel mio caso 30 diviso 10 e so che sul dietro e sul davanti devo andare a mettere 3 motivi sulle spalle due perché 20 diviso 10 e 2 quindi due motivi se avete messo più catenelle basta fare mettiamo sul dietro e sul davanti avete 40 catenelle 40 diviso 10 e così sapete quanti motivi dovete mettere sul davanti e sul dietro per quanto riguarda gli angoli dove dobbiamo fare gli aumenti un motivo è in comune con la spalla e il dietro e con la spalla e il davanti quindi una volta che avete stabilito il tutto e sapete quanti motivi dovete mettere iniziamo a lavorare inizio direttamente dall'aumento quindi una volta che ho chiuso con una maglia bassissima rientro nello stesso punto lavoro una maglia bassa e vado a lavorare la maglia bassa prendendo la seconda asola non la prima ma la seconda in questo modo lavoro un'altra maglia bassa che corrisponde ad una maglia alta 2 catenelle di separazione rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta 2 catenelle siccome qui stiamo facendo l'aumento rientro nello stesso punto e vado a lavorare una seconda maglia alta quindi abbiamo lavorato un punto v e abbiamo un totale di 3 maglie alte separate da 2 catenelle il punto che andremo a lavorare è lo stesso del runner moderno quindi un punto molto semplice che ho voluto riprodurlo però lavorandolo in tondo una catenella di separazione qui mi trovo sul davanti e sul davanti devo andare a lavorare tre motivi quindi salto 1 2 3 e 4 nella quinta catenella lavoro 3 maglia alta 1 2 e 3 2 catenelle rientro nello stesso punto vado a lavorare altre 3 maglie alte 1 2 e 3 vado a ripetere il punto v separiamo un motivo con una catenella salto sempre 1 2 3 4 e nella quinta catenella vado a lavorare maglia alta 2 catenelle 2 catenelle rientro nello stesso punto maglia alta catenella di separazione salto 1 2 3 4 e nella quinta catenella di nuovo 1 2 3 4 e nella quinta catenella la quinta catenella lavoro il ventaglietto di 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle rientro nello stesso punto 3 maglie alte 1 a questo punto ho lavorato solo due motivi questo è il motivo che abbiamo in comune con la spalla e quindi abbiamo lavorato 1 e 2 devo lavorare l'ultimo motivo e vado a lavorare una catenella nella quinta quindi 1 2 3 4 e nella quinta lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro nello stesso punto e vado a lavorare un'altra maglia alta catenella vado a lavorare l'ultimo ventaglietto vado a lavorare l'ultimo ventaglietto salto sempre 1 2 3 4 e nella quinta catenella ripeto la Le tre maglie alte, due catenelle, rientro nello stesso punto e tre maglie alte. Uno, due e tre. Questa è la parte del davanti, quindi ho con l'angolo un motivo, questo corrisponde, il ventaglietto con il punto V corrisponde a due motivi e questo è il terzo motivo. Vado a lavorare la catenella e devo lavorare l'aumento che corrisponde all'aumento del davanti con l'aumento della spalla. Quindi vado a saltare uno, due, tre, quattro e nella quinta lavoro di nuovo maglia alta. Due catenelle di separazione, rientro nello stesso punto una maglia alta, quindi qui abbiamo lavorato un punto V, aggiungiamo due catenelle e rientriamo e lavoriamo un'altra maglia alta. Allora, sì, abbiamo fatto l'aumento, quindi l'aumento consiste nel lavorare tre maglie alte separate da due catenelle nello stesso punto e così abbiamo un punto V e un secondo punto V. Vado a lavorare il ventaglietto di tre maglia alta, quindi salto uno, due, tre, quattro e cinque catenelle, rientro tre maglie alte, uno, due e tre e questo è il primo motivo. Vado a separare sempre un motivo dall'altro con una catenella. Salto uno, due, tre, quattro, catenelle e nella quinta vado a lavorare un punto V, maglia alta, due catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione. Salto uno, due, tre, quattro e nella quinta vado a lavorare di nuovo il ventaglietto di tre maglia alta, uno, due e tre. A questo punto io come punto di riferimento ho i ventaglietti, quindi ho lavorato i miei due ventaglietti, qui invece ho uno, due, tre ventaglietti. Una volta che ho lavorato i due ventaglietti vado a lavorare di nuovo l'aumento della spalla e vado a saltare sempre uno, due, tre, quattro e nella quinta lavoro maglia alta, lavoro maglia alta, due catenelle, rientro e lavoro un'altra maglia alta e così abbiamo un punto V. facciamo l'aumento aggiungendo due catenelle, rientro nello stesso punto e vado a lavorare un'altra maglia alta. e abbiamo lavorato un altro aumento, catenella e a questo punto mi ritrovo sul davanti e sul davanti devo andare a ripetere uno, due e tre ventaglietti. Quindi come punto di riferimento, per non sbagliare, vede i ventaglietti. Una volta che abbiamo fatto l'aumento all'angolo andiamo a lavorare i ventaglietti, tre ventaglietti e il punto V e poi l'ultimo punto V facciamo l'aumento. Andate avanti e ve lo faccio rivedere. Terminato, uno, due, tre. Come vi ho detto questo è in comune con la spalla, quindi tenendo presente i ventaglietti ho lavorato i ventaglietti o tre ventaglietti. Ho sempre saltato quattro catenelle di base e nella quinta ho lavorato il motivo, separando un motivo dall'altro con una catenella. Vado a ripetere l'aumento, quindi salto uno, due, tre, quattro e nella quinta catenella lavoro il punto V. Maglia alta, due catenelle, rientro nello stesso punto, maglia alta. Aggiungiamo due catenelle per l'aumento e nello stesso punto vado a lavorare un'altra maglia alta. E questo è un altro aumento. Una catenella e sulla spalla vado a ripetere due motivi e andiamo a chiudere poi con una maglia bassissima nell'angolo. Quindi salto uno, due, tre, quattro e nella quinta catenella vado a lavorare il ventaglietto di tre maglie alte separato da due catenelle. Andate avanti, lavorate questi due motivi e poi iniziamo un nuovo giro. Una volta che abbiamo suddiviso il nostro sprone, questo è il risultato. Quindi questa è la parte del davanti e questa è la parte della spalla. Vado a chiudere con una maglia bassissima. Il punto che andremo a lavorare è sempre uguale al giro numero uno. Dove abbiamo il ventaglietto, all'interno lavoriamo il ventaglietto. E dove abbiamo il punto v, lavoriamo il punto v. L'unica cosa che varia è quando ci troviamo agli angoli per gli aumenti. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima, qui dove abbiamo fatto il primo aumento. Mi sposto all'interno delle due catenelle e lavoro una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella, rientro all'interno e lavoro una maglia bassa. Sostituisco la maglia alta con un'altra maglia bassa. Quindi prendo la seconda asola, estraggo il filo e lavoro un'altra maglia bassa. E questa, come vedete, è una maglia alta. 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro un primo punto v. Ci troviamo dove abbiamo l'aumento. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado sul secondo punto v e all'interno ripeto la maglia alta. 2 catenelle, rientro all'interno un'altra maglia alta. Queste 3 catenelle di separazione mi servono per ripetere l'aumento come abbiamo fatto al primo giro. Quindi alterniamo questi due giri per l'aumento. Una catenella. Qui ho il ventaglietto e ripeto il ventaglietto. Di 3 maglie alte, 2 catenelle e rientro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una catenella. E qui ripetiamo come abbiamo sotto. Maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Catenella. Qui ripeto le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Separiamo un motivo dall'altro con una catenella. Maglia alta, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Quindi ripetiamo quello che abbiamo sotto, lo ripetiamo sopra. Una catenella. 3 maglie alte. 2 catenelle. E di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Mi ritrovo di nuovo dove ho l'angolo. E vado a ripetere come abbiamo fatto prima. Qui lavoriamo il primo punto V. Maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. 3 catenelle di separazione. 1, 2 e 3. Vado a ripetere di nuovo il punto V. A fianco dove abbiamo lavorato il punto V sotto. Maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. 3 catenella. Vado a lavorare sulla spalla così come si presentano le maglie. Ventaglietto, punto V e ventaglietto all'interno. E qui ventaglietto, punto V, 3 catenelle e punto V. Proseguite questo fino a terminare il giro. Terminato anche questo giro, questo è il risultato del punto. Quindi andando avanti dà un effetto molto bello e molto particolare. Anche perché poi, come avete notato, la canna da zucchero ha dei punti luce dello stesso colore del filato. E dà anche un effetto elegante. Dobbiamo andare avanti con questa sequenza fino ad arrivare alle nostre larghezze. Per quanto riguarda il motivo del ventaglietto, punto V, il motivo centrale rimane invariato. L'unica cosa che andremo a cambiare è dove abbiamo fatto gli aumenti. Quindi ogni volta che andiamo avanti, aggiungiamo sempre un punto V per ogni lato in più. Quindi andremo ad aggiungere i punti V. Il motivo dei ventaglietti rimane invariato. Una volta che ho terminato anche questo giro, chiudo sempre nella maglia alta del giro d'inizio. Vado all'interno del punto V e lavoro una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto, maglia bassa. Qui mi ritrovo sull'angolo dove abbiamo fatto le catenelle di separazione. E lavoriamo i due punti V normale. E qui al centro facciamo di nuovo l'aumento, come abbiamo fatto sotto. Prendo la seconda asola della maglia bassa. Prendo il filo, estrago il filo, maglia bassa e due catenelle. Rientro e lavoro una maglia alta. Catenella di separazione. Qui lavoro maglia alta. Due catenelle. Rientro nello stesso punto e vado a lavorare una maglia alta. Siccome ci troviamo sull'angolo, andiamo a lavorare altre due catenelle. E sempre all'interno un'altra maglia alta. Quindi ci ritroviamo con uno, due e tre maglie alte separate da due catenelle. Nel giro successivo poi lavoreremo come abbiamo lavorato qui. Quindi un punto V, tre catenelle e sull'altro punto V all'interno un altro punto V. Catenella. Qui ho un punto V e quindi, ripeto, maglia alta, due catenelle. E adesso ci ritroviamo con un punto V in più sul davanti e sulla spalla. Andiamo a ripetere il motivo come si presenta. Quindi abbiamo sotto il ventaglietto e lavoriamo il ventaglietto. 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella e qui ripetiamo il punto V. Ripetiamo le maglie come si presentano sotto e poi vi faccio rivedere come lavorare l'aumento. Mi ritrovo qui a questo punto dove ho di nuovo l'aumento. E andiamo a ripetere come abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi lavoro il primo punto V normale, maglia alta, due catenelle, rientro nello stesso punto, maglia alta, catenella. Qui ho le 3 catenelle di separazione. Quindi all'interno devo lavorare due punti V. Una maglia alta, due catenelle, rientro, maglia alta. Due catenelle di separazione, rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta e mi ritrovo con 1 e 2 punti V. Catenella, qui ho le maglie così come si presentano e vado a lavorare come ho sotto. Vado a ripetere i punti che ho sotto. Quando vado dove ho l'altro aumento, vado a lavorare due punti V all'interno delle catenelle. Proseguite questo e vi faccio rivedere come iniziare un altro giro e dobbiamo andare avanti fino a raggiungere le nostre lunghezze e larghezze. Terminato anche questo giro, chiudiamo sempre con una maglia bassissima. Vado al centro con una maglia bassissima, mi alzo con una catenella, lavoro una maglia bassa e vado dove ho la seconda asola e lavoro un'altra maglia bassa. Queste due maglie bassa sostituiscono una maglia alta, due catenelle. Qui vado a lavorare un punto V. Catenella, mi ritrovo dove ho l'angolo. Come vedete ho un punto V e un secondo punto V. Qui lavoro il primo punto V, maglia alta, due catenelle, rientro, maglia alta. In questo giro lavoriamo tre catenelle di separazione. E in quest'altro aumento che abbiamo fatto, lavoriamo maglia alta, due catenelle e una maglia alta. Come state notando, man mano che andiamo avanti aumentano i punti V. Catenella, qui andiamo a ripetere le maglie come abbiamo ventaglietto, punto V, ventaglietto, punto V, ventaglietto, separato sempre da una catenella. E qui lavoriamo un punto V, una catenella. Qui dove abbiamo l'angolo, lavoriamo maglia alta, due catenelle e una maglia alta, tre catenelle di separazione e in quest'altro punto V lavoriamo un altro punto V. Quindi per quanto riguarda l'aumento, ripetiamo il giro numero 1 e numero 2. Numero 1 e numero 2. Fino a raggiungere le nostre lunghezze. Dobbiamo raggiungere la lunghezza dello scalfo. Andate avanti con la lavorazione e io poi vi dico quanti centimetri ho fatto in tutto. Questo è il risultato del punto una volta che andiamo avanti. Io ho fatto questi due colori perché a me piaceva farlo in questo modo. Poi vado a lavorare solo con il celeste tutta la mia maglia. Se voi volete fare un colore unico potete farlo tranquillamente. Come vedete abbiamo iniziato con due punti V agli angoli e man mano che siamo andati avanti con la lavorazione, questo è il risultato degli aumenti. Siamo andati ad aumentare ad ogni giro dei punti V in tutti i lati. Il motivo centrale rimane sempre uguale, rimane invariato. Questo è l'effetto anche del cotone elastico. Per quanto riguarda le circonferenze io ho un totale di 42 centimetri. Tirando arriva 43-44 centimetri e mi fermo. Per quanto riguarda lo scalfo ho 18 centimetri. Questa è una taglia M. Se avete uno scalfo più profondo andate avanti fino a raggiungere i vostri centimetri. Andando avanti fino a 20-22 centimetri. Una volta che avete raggiunto le vostre larghezze oppure siete arrivato allo scalfo, la lunghezza dello scalfo e non avete le vostre larghezze, potete aggiungere delle catenelle quando andiamo ad unire il davanti con il dietro. A me non servono. Quindi io vado a riprendere la mia lavorazione. Mi ritrovo qui a questo punto. E ho terminato con le tre catenelle di separazione. Quindi mi vado a segnare questo punto. Non vado a fare più aumenti. E qui all'interno lavorerò un punto V. E anche dall'altra parte. Quindi andrò a piegare in questo modo e andrò a unire la parte del davanti con la parte del dietro. Una volta che ho chiuso il giro, rientro nel punto V, faccio la maglia bassissima, una maglia bassa. Sulla seconda asola lavoro un'altra maglia bassa e due catenelle. Rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta. Come vedete non si nota molto la chiusura e il giro nuovo. D'inizio, catenella, vado a lavorare i punti V così come si presentano, fino ad arrivare dove ho messo il segno. Mi ritrovo dove ho le catenelle di separazione. Significa che mi ritrovo dove ho l'angolo. A questo punto vado a lavorare all'interno delle tre catenelle Non vado a fare l'aumento perché non vado ad aumentare più. Aggiungo una catenella di separazione Vado dall'altra parte E sempre all'interno delle catenelle vado a ripetere la maglia alta Due catenelle e maglia alta Io non aggiungo le catenelle di separazione Ma se a voi mancano centimetri Basta aggiungere il multiplo che è di 10 da un lato e dall'altro Quindi una volta che lavorate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle Ammettiamo vi servono 10 catenelle Andate a chiudere con Un punto V Nelle tre catenelle Quindi una volta che poi andate a lavorare sulle catenelle Lavorate il punto V Saltate 1, 2, 3, 4 E nella quinta lavorate un altro punto V Poi una catenella E andate direttamente In questo punto V Per continuare la lavorazione E così avete più centimetri e più larghezza Per quanto riguarda la maglia Siccome non dobbiamo ripetere più il ventaglietto Perché la parte del punto V rimane invariato Lasciamo solo il punto V A me non serve Quindi vado dove ho L'altro angolo E vado Non serve allargare Vado a lavorare maglia alta 2 catenelle Rientro maglia alta E questa è la larghezza Nella mia manica Continuo la lavorazione Come ho sotto Quindi vado a ripetere i punti che ho sotto Così come si presentano Dove ho il ventaglietto Lavoro il ventaglietto Dove ho il punto V Lavoro il punto V E continuo Sempre in tondo Questo è il risultato Una volta che abbiamo Unito il davanti con il dietro Adesso vado a lavorare Sempre con il celeste E vado ad arrivare al primo fianco Se casomai qui Vi servono degli aumenti Perché avete il seno più abbondante Potete fare degli aumenti Solo sul davanti Aggiungendo dei punti V Quindi una volta che abbiamo chiuso Rientriamo Lavoriamo una maglia bassa Prendo la seconda asola E lavoro una maglia bassa E due catenelle Per quanto riguarda gli aumenti Possiamo fare Maglia alta Due catenelle Quindi come abbiamo fatto Al primo giro Rientro Maglia alta Due catenelle Rientro Maglia alta Quindi lavorate solo Gli aumenti sul davanti Poi lavorate due giri Senza fare aumenti E vedete come va Sul dietro lo lasciate normale Se invece arrivate al primo fianco E volete la maglia A trapezio Fate quattro aumenti Sempre due giri Senza aumentare Quattro o sei aumenti Dipende come la volete Larga E poi vedete Man mano che misurate Come dovete procedere Una volta che fate I vostri aumenti Lavorate poi il punto Come si presenta Quindi punto su punto Nel giro successivo Non andremo a fare Il punto V Le tre catenelle E il punto V Ma lavoreremo Un punto V qui Una catenella E un punto V qui E così poi da Un punto V Avremo due punti V Lavoriamo poi Senza aumentare E ogni volta misurate Andate avanti Con la lavorazione E poi ci vediamo Quando arriviamo Al primo fianco Andando avanti Con la lavorazione Questo è il risultato Per quanto riguarda I fianchi Come vedete Io ho una piccola svasatura Non è dritta Perché volevo La parte di sotto Un po' Più larga E ho inserito Degli aumenti Per quanto riguarda Il motivo Non l'ho toccato Sul davanti E sul dietro Sempre tre motivi Di ventaglietti E tre di punti V La cosa che Sono andata Ad aumentare Sono i punti V Dove abbiamo fatto Gli aumenti Degli angoli Per far crescere La nostra blusa Infatti Io gli aumenti Li vado a fare Dove ho i punti V E non vado A toccare La parte centrale Questa rimane Invariata Altrimenti Andavo ad alterare Il motivo Per quanto riguarda Gli aumenti Ho inserito Quattro volte Dei punti V E Ho fatto Misurando Dall'ascella Fino dove ho messo Il marca punti Perché lì ho iniziato A fare i primi Aumenti Ho 12 centimetri Quindi ho lavorato 12 centimetri E poi ho inserito Dove ho i punti V Due aumenti da un lato E due aumenti dall'altro Poi ho lavorato Due giri Senza fare aumenti Per vedere come andavano Al terzo giro Ho inserito Altri due aumenti Da un lato E due aumenti Dall'altro E poi ho lavorato Normalmente Senza inserire Più aumenti Adesso vado A inserire Altre quattro aumenti E poi vado A lavorare Fino alla mia lunghezza Di un totale Di 50 centimetri Senza aumentare più La manica Non la vado a toccare Lascio In questo modo Se voi invece Volete inserire La manica Basta Riprendere Il motivo Che abbiamo sotto È molto semplice Se volete fare Delle diminuzioni Andate a Saltare Qualche punto V Adesso vi faccio Vedere Come inserire Gli aumenti Una volta Che avete Stabilito Quanti aumenti Volete fare Nel mio caso Ho fatto Quattro aumenti Due da un lato E due dall'altro Senza toccare Il motivo Centrale Ho fatto Gli aumenti Dove ho Tutti i punti V Se la volete Più larga Potete inserire Sei punti V In più Poi vedete Come va Fate due giri Senza aumentare O tre giri Senza aumentare E se volete Inserire Altri aumenti Fate altre sei Una volta Che ho chiuso Con una maglia Bassissima Vado al centro Faccio un'altra Maglia bassissima Mi alzo Con una catenella Rientro Nello stesso punto E lavoro Una maglia bassa Vado Sulla seconda Asola Prendo il filo Un'altra maglia Bassa Due catenelle Di separazione Rientro Maglia alta Catenella Vado a fianco Maglia alta Due catenelle Rientro Maglia alta A questo punto Vado ad inserire Un altro aumento Vedete Qui è la parte Dei punti V Lavoro Lavoro il primo punto V Maglia alta Due catenelle Rientro Maglia alta Due catenelle Rientro Rientro Una maglia alta Due catenelle E una maglia alta Non li vado a mettere In modo Molto vicino Ma Li vado a posizionare Uno distante Dall'altro Quello che faccio Da questo lato Devo andare a ripetere Dall'altro lato Quindi due da un lato E due dall'altro Due catenelle Vado a Vado a Fianco E a Fianco Vado ad Inserire Un altro Aumento Vado qui E lavoro Uno Rientro Due Questo è Il primo Punto V Separo Un punto V Dall'altro Con due catenelle Rientro E lavoro Una maglia alta E proseguo Questo per tutto Il giro Sono andata avanti Con la lavorazione E ho chiuso Il giro E ho avviato Un altro giro Vi faccio vedere Come lavorare Dove abbiamo Gli aumenti Lavoriamo I punti V Sempre come Si presentano E dove abbiamo L'aumento Infatti In un punto V Abbiamo Due punti V Lavoriamo Anche qui Come si presentano Le maglie Nel primo Punto V Lo lavoriamo Normalmente Maglia alta Due catenelle Rientriamo Maglia alta Separiamo Il primo Dal secondo Con una Catenella Rientriamo Nel secondo Entriamo Nel secondo Lavoriamo Maglia alta Due catenelle E maglia alta Catenella Poi Lavoriamo Le maglie Così come Si presentano Sotto Il motivo Centrale Sempre uguale Poi vado A lavorare Due giri Senza Fare Aumenti Quindi Da Uno Abbiamo Due Poi due Separati Andando avanti E misuriamo Come va La cosa Buona Del top Down E che Quando andiamo A Lavorare Possiamo Misurare E renderci Conto Come vanno Come sta andando La lavorazione Vado a proseguire Adesso Senza fare Più Aumenti Fino A 50 Centimetri Invece Voi Andate Avanti Misurate E provate Se va Bene Oppure Volete Fare Altri Aumenti Oppure Vi Fermate Ai primi Aumenti Che avete Fatto Per quanto Riguarda La lavorazione Molto Semplice Molto Carina E Infilato Anche Molto Leggero Rende Particolare Anche Questi Due Colori Che Ho Voluto Abbinare Volendo Potete Usare Anche Un Colore Unico Se Casomai Volete La Scollatura Più Profonda Basta Aggiungere Il Multiplo Che Di 10 Quindi Andate Ad Aggiungere O Su Tutte Quattro I Lati 10 10 E 10 Viene Molto Scollata Oppure Aggiungete Solo 10 Catenelle E Poi Vi Regolate Durante La Suddivisione Delle Maglie L'importante Che Ogni Lato Sia Di 10 E Ogni Lato Deve Essere Uguale Andando Avanti Con La Lavorazione Se Avete Problemi Al Seno Nel senso Avete Un seno Più Robusto Sempre Dove Abbiamo I Punti V Fate Qualche Aumenti In Più Solo Sul Davanti Quindi Andate Ad Aumentare Dove Abbiamo I Punti V Prose Prose Promete Promete Volete Riprendere La Magnica Come Vi Ho Detto Prima Basta Riprendere Il Motivo Che Abbiamo Sotto Ce L'abbiamo Già Quindi Basta Andare A Riprendere Le Maglie Così Come Si Presentano Detto Ciò Il Tutorial Finisce Qui Se Vi Piaciuto Mettete Un like Iscrivetevi Al Canale E Ho Un Gruppo Facebook Che Si Chiama Le Creazioni Di Carola E Le Amiche Di Uncinetto Ci Vediamo A Presto Grazie Per La Visione E Ciao